I lavori di riqualificazione del parcheggio del Foro Boario, un parcheggio di forte riferimento alla città sia per la localizzazione in cui si trova ma anche per la capienza, sono partiti. Sono partiti nel senso che abbiamo affidato i lavori, abbiamo suddiviso l'area in otto settori proprio per creare meno disagi possibili alla mobilità ma anche alle persone che dovevano parcheggiare la loro auto e quindi nel suddividere queste otto sezioni siamo partiti dalle parti centrali. In questo caso a partire da oggi è interdetta una delle parti centrali, quindi due filari in contraposizione con la parte lato ospedale proprio perché inizieremo a fare dei lavori di sottoservizi quindi comprendendo le caditoie, quelle che sono le installazioni per quanto riguarda tutta la nuova illuminazione che passa da 12 a 35 punti luci proprio per aumentare la luminosità ma anche il livello di sicurezza. Procederemo con la cordolatura delle aree, con la realizzazione delle aiuole ma anche con quello che sarà tutta l'operazione poi di asfaltatura e di segnaletica successiva. È chiaro che avendo suddiviso queste aree in otto sezioni una sarà conseguente all'altra quindi lavoreremo per piccoli spazi proprio come dicevo prima per creare meno disagi possibili. È importante sottolineare che passiamo da 332 posti auto di cui 12 riservati a persone con disabilità, 2 a donne con gravidanza e 2 con carico e scarico, più 10 nuovi posti per moto e 45 per biciclette. Considerando che verrà migliorato anche tutto l'ingresso del parcheggio appunto con della nuova pavimentazione, verrà risistemato il cancello, ecco verrà data un'area di decoro e sicurezza sicuramente migliore oltre che di miglior fluibilità proprio perché i parcheggi a questo punto saranno con una segnaletica ordinata e daranno la possibilità di avere anche una mobilità certa e sicura. Rispetto alle 120 alberature che erano a dimora noi in questo momento ne dovremo per questioni proprio di mobilità, di nuova mobilità del parcheggio, ne dovremo e anche di salute delle stesse alberature, ne abbatteremo 24 ma a queste diciamo ne andremo poi a mettere di mora tante altre perché ne verranno messe a dimora 31 e quindi all'interno dello stesso perimetro proprio per garantire anche quel benessere di salute che sappiamo bene alla pianta porta. I lavori si manterranno sino a giugno, è un importante intervento che è pari a 800 mila euro per il quale ci siamo candidati attraverso delle risorse dei bandi PNRR ma anche delle risorse regionali che siamo riusciti a conquistare proprio per migliorare quello che era la qualità dell'aria. Per l'occasione adesso diciamo della Carnevale, visto e considerato che sarà la prossima manifestazione importante, come amministrazione metteremo a disposizione nelle tre giornate di Carnevale una navetta gratuita che partirà proprio dal parcheggio dell'ex matatoio ma anche del parco urbano proprio perché comprendendo che questa cosa potrebbe interagire con quello che poi è un servizio di prossimità cerchiamo di metterci a disposizione. La visione è sempre totale. Grazie.